Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Stando alle ultime notizie amici di Maria, sarebbe dovuto partire domenica 15 settembre. Ma non sarà così, al suo posto ci sarà Beautiful e Endless Love. Il ritorno dei ragazzi e dei prof adesso è fissato per il 22 settembre. Proprio come il talent show slittano anche uomini e donne e tussiche vales. Il dating show di Canale 5 era previsto per lunedì 9 settembre. Poi si è parlato del 16 settembre e adesso pare che debutterà lunedì 23. Le registrazioni di uomini e donne sono partite lo scorso 28 agosto. Quindi al momento della messa in onda, Maria avrà a disposizione già diverse puntate registrate. Per quanto riguarda tussiche vales adesso abbiamo una certezza. Perché poco fa su Canale 5 è andato in onda lo spot con la data. Vi aspettiamo qui con tussiche vales da sabato 21 settembre. Ma come mai i programmi di Maria sono stati posticipati? Secondo Dejanira Marzano centrerebbe Temptation Island. Stando a quello che ha riportato l'esperta di gossip, il team di Maria vorrebbe dare spazio alla nuova edizione di Temptation che partirà il prossimo 10 settembre. Anche UE di parte il 23 per dare un po' di tempo a Temptation dopo l'esordio. Resta invariato lo start per Grande Fratello. La prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, con Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come opinioniste, andrà in onda lunedì 16 settembre. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Novanews24. 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 Novanews24.